Sorpassi e controsorpassi, emozioni, tanti gol ma anche tanti errori nella gelida serata del Sinigaglia. Alla fine 3-3 un pareggio che non serve a nessuno. Il Como non riesce a superare in classifica la Cremonese. I grigiorossi non sfatano il tabù scontri diretti e dicono forse addio alle speranze di rimonta nei confronti dell'Entella. Torrente sorprende tutti utilizzando per la prima volta il 3-5-2, preferendo Quaini a Galli, Armellino all'Oviso e rinunciando all'infortunato dell'ultimo minuto, Bergamelli. Avogadri e Casoli agiscono sulle fasce. Caracciolo, Moi e Abate compongono il pacchetto arretrato. Pronti via e al primo pallone toccato Bomber Brighenti porta subito in vantaggio la Cremo con un imperioso colpo di testa su perfetto cross di Casoli. La gara non decolla dal punto di vista del gioco. Entra in scena il protagonista della serata Lex Lenucci, che prima pareggia i conti approfittando di un errato disimpegno di Palermo, poi ribalta il risultato calciando quasi da fermo e mettendo la sfera nel 7 dove Quaini non può arrivare. La Cremo prova a chiudere in avanti il primo tempo, Bruccini impegna Melgrati che smanaccia in corner e nel recupero Armellino, con una prodezza al volo in stile Reggio Emilia, riesce a pareggiare i conti. Si va al riposo sul 2-2. Nella ripresa sono i grigiorossi che danno l'impressione di credere di più nella vittoria. Moy impegna il portiere avversario al quindicesimo e al 27esimo Caracciolo riesce con un colpo di testa a riportare in vantaggio i suoi sul cross di Bruccini. Ma invece di difendere con i denti il 3-2, la squadra di Torrente subisce immediatamente il gol dal definitivo pareggio. Nell'occasione Lenucci veste i panni di assist man, servendo Palma che indisturbato appoggia di testa in rete. Per i grigiorossi è il settimo risultato utile consecutivo, ma il numero di scontri diretti vinti contro le rivali in ottica promozione rimane ancora fermo a quota zero.